live cominciata mamma mia ragazzi che sonno dove sta l'id xlan xlan bravo non è l'idio e oggi twitch monitor ha deciso di funzionare subito miracolo direi perché ogni sera sono due serie che ogni sera ho dei dolori in diverse parti del corpo neanche stessi leggendo world spark per dire non lo voglio trasformare in un evento catroia maledetto facebook che non mi ha caricato un'immagine quanto lo odio se pubblica il post originale non cagare il cazzo facebook ok nella storia no stanno troppo in là vabbè che tanto ormai su insta non pubblico più le live cominciano a visitare le live quindi posso andare attento a prendere adesso siamo quasi pronti già che è finita la pubblicità è buona sì sì ci siamo sì devo solo pubblicare su youtube perfetto però su di youtube sono uscite le prime due live della settimana scorsa che erano esplorando xlan della settimana scorsa e non mi ricordo l'altra che cos'era inventando Kamigawa la prima sì quando ci ho fatto il ride Akira che emozione il momento in cui 60 spettatori mi hanno fatto tiltare perché sono andato nel pallone con tutta quella gente 60 persone comunque è una roba allora ok quindi mi sembra di capire che in realtà ci sia poca roba sui pirati cioè che sia più breve di quanto ricordassi oddio breve breve no però mi sa che la più lunga la parte più lunga vabbè prima dei dei cosi non mi ricordo come si chiamano gli abitanti del nucleo sono i vampiri vero? e i vampiri si oddio ma neanche troppo pure i vampiri mi ricordavo più lunghi adesso vediamo contiamo i caratteri allora tra l'altro quando facciamo i vampiri dovrò ottenere a mente anche la dannazione quindi la prossima settimana probabilmente o vediamo magari anche già stasera ma non credo terrò a mente le date precise perché c'è la timeline vediamo un po' conta caratteri poi tanto cominciamo la live per bene stiamo come al solito lo spammi questo è il momento spammiro introduttivo lo spammiro è finito però mi prendo qualche minutino 2771 parole si no 2711 non 71 e sono i vampiri mentre mentre invece i nostri amici della collezione di bonzo sono ti vedete al cazzo ecco present coalition lunghi la bellezza di 2147 parole quindi 600 parole in meno e invece quello che abbiamo fatto la settimana scorsa quant'era perché a sto punto se quello che abbiamo fatto la settimana scorsa è più breve cioè ci abbiamo messo un'ora la settimana scorsa paciatupa city streets azokan eccolo qui azokan giallo il sole e la forza ti dà come cantava un poeta dei tempi antichi questo è quello che abbiamo fatto l'altra volta l'altra volta l'altra volta l'altra volta abbiamo fatto 3117 parole e ci abbiamo messo circa un'oretta un'oretta e venti mi pare quindi forse ci potrebbe essere spazio anche per i vampiri questa sera e attenzione che attenzione attenzione ma entriamo quindi in argomento andiamo a raccontare un attimo quello che faremo stasera prendiamo una bella immagine una bella immagine di xlan dei pirati yar potrei fare tutta la sera yar ogni volta che pronuncio la r ma mi romperai il cazzo dopo mi sono già rotto il cazzo a dirla tutta allora come ogni martedì si è martedì si è martedì questa sera andiamo a leggere la guida per Prince Walker a Lost Caverns of Xlan mentre gioco con le chiavi facendo smr Lost Caverns of Xlan abbiamo letto le settimane precedenti un'introduzione generale di quello che era più o meno successo con l'invasione firexiana e poi abbiamo visto le città-stato dell'impero del sole come hanno reagito all'invasione e gli araldi del fiume anche loro come hanno reagito abbiamo visto che le città-stato dell'impero del sole a seconda della loro posizione geografica hanno avuto diverse fortune e sfortune mentre i tritoni sono stati quelli per ora più colpiti e devastati tant'è che il loro albero sacro intorno al quale tutte le loro tribuste si radunavano è stato buttato giù è stato distrutto e i sopravvissuti sono la razza dei tritoni è purtroppo i loro numeri sono calati drasticamente e stavano organizzando un congresso nelle profondità del de Xan appunto sotto i fiumi nelle caverne sotterranie di Xan per capire un attimo il punto della situazione mentre invece l'impero del sole abbiamo visto che adesso è governato dopo la morte di Inti III Azpatek Inti III gli è succeduto suo figlio che è Inti IV ma Inti è manipolato dallo zio dallo zio che non mi ricordo più come si chiamava e Inti perché Inti è un imperatore bambino Inti IV un imperatore bambino mentre suo zio appunto che era figlio era il fratello bastardo in realtà di Inti III è stato Inti III lo aveva reso fratello ufficiale fratello di sangue quindi è un po' il potere dietro al trono e quindi questa sera invece vedremo prima la coalizione di bronzo i pirati quindi della coalizione di bronzo come hanno reagito a questi grandi sconvolgimenti nell'Ixalan e cosa è successo dal momento che loro in realtà sembrerebbe strano parlare di invasione firexiana nel loro caso visto che la secca e le loro navi erano tutte in mezzo al mare i pirati non avevano più una nazione da parecchio tempo da circa un secolo eppure vedremo che anche loro in qualche modo sono stati colpiti e molte cose sono cambiate e poi se ci sarà tempo se avrò voglia se non mi starò addormentando se tanti se andremo a leggere anche la parte della guida che parla invece di torreson e dei vampiri ora come al solito vi ricordo che è una la lettura è una lettura indiretta dall'inglese tradotta per voi indiretta appunto dall'inglese all'italiano una traduzione in staccato diretta quindi sul momento perciò aspettatevi come sempre momenti magari in cui torno sulle frasi più volte momenti un pochino morti però o momenti in cui cerco traduzioni però comunque sempre darò il meglio di me come in ogni live di Esplorando quindi detto questo senza ulteriore indugio vi invito poi a fare le sub per avere una live dedicata all'argomento che preferite si va a leggere la collezione di bronzo nessuna regola nessuna restrizione infinite possibilità e la chance di provare la tua virtù no la virtù virtù il tuo il tuo valore seguendo il tuo desiderio secondo il tuo modo il tuo valore secondo eh vedete già l'ho detto on your own terms quindi diciamo a modo tuo ecco dimostrare di essere degno di essere dimostrare di avere valore ma in un modo tutto tuo appunto questa era la promessa che la che la che la che la che la che la lezione di bronzo offriva ai suoi pirati appunto ai suoi partecipanti prima dell'invasione firexiana con solamente una manciata di arcipelaghi piccoli arcipelaghi sotto il loro controllo la coalizione faceva dell'oceano il suo vero dominio sulle sulle acque blu dell'oceano sulle sulle strette spiagge costiere e le profonde le profonde bucche dei fiumi che si in quei momenti in cui i fiumi si spalancano e si gettano nel mare i membri della coalizione di bronzo sono maestri delle onde sono al loro agio in questi luoghi sull'acqua e non all'interno dell'entroterra o dei fiumi nell'entroterra la coalizione di bronzo era inizialmente composta è stata fondata da rifugiati che fuggirono da torre durante la campagna di conquista da parte della legione del vespro avvenuta circa un secolo fa anno più anno meno tuttavia non trovarono alcun aiuto in Ixalan in quanto l'impero del sole li scacciò dalle sue terre scacciati dall'impero del sole e impossibilitati a ritornare a casa la flottiglia dei rifugiati si divise e si scattered si spezzettò diciamo si diffuse in tutto il mar dei naufragi quindi l'oceano che separatò Horizon e Ixalan il nostro diciamo oceano atlantico alcune navi scomparvero oltre l'orizzonte e altre invece cercarono di stabilire trovare una casa sull'acqua fondando una città galleggiante di nome High and Dry cioè la secca in italiano disperati senza alcuna terra da chiamare casa e conseguentemente nessuna maniera di coesistere pacificamente di esistere pacificamente e sopravvivere pacificamente nell'oseano questi rifugiati si trasformarono quindi in pirati decisero di dedicarsi alla pirateria cominciarono ad attaccare a saccheggiare le coste dell'Ixalan preferendo affrontare altri umani al posto di quei vampiri che si erano lasciati a casa e che avevano ormai rafforzato e conquistato quelle che un tempo erano le libere città della costa occidentale del Torrezon mi era venuto il dubbio se Torrezon in teoria sarebbero Spagna e Portogallo abbiamo già fatto un discorso durante uno dei primi esplorando Ixalan che l'impero con la coalizione di bronzo è molto ispirata a Spagna e Portogallo prima dell'inizio della conquista delle Americhe quindi in realtà più al Portogallo se vogliamo in realtà e alle grandi scoperte geografiche del 1400 comunque nel corso del tempo hanno sviluppato una delle vere e proprie industrie che hanno permesso loro di scambiare di creare una serie di scambi di commerciare ecco di scambi commerciali di commerciare e rafforzare e costruire vascelli e vascelli navi e e ciurme dopo aver sviluppato hanno iniziato con dei raid con degli attacchi dei saccheggi alle coste dell'Ixalan perché non si sentivano pronte ad affrontare i vampiri ma man mano che è passato il tempo e che hanno rafforzato la propria flotta e hanno sviluppato una vera e propria industria hanno cominciato a attaccare anche Torrezon nel corso delle ultime poche decadi questi pirati rifugiati hanno stabilito una più hanno costruito una organizzazione più o meno permanente una coalizione che avrebbe permesso loro di una coalizione nata quindi si avrebbe permesso loro di sopravvivere mettendo da parte il proprio mettendo da parte l'interesse personale per l'interesse di tutti quindi avrebbe permesso loro di coesistere per il bene comune appunto che però avrebbe permesso comunque alle ciurme alle navi alla sufficiente libertà per quella libertà a cui appunto erano ormai abituati la libertà di razziare come volevano però mantenendo comunque una serie di sorta di leggi che garantissero delle regole che garantissero una coesistenza pacifica tra loro questa fu l'inizio quindi della coalizione di bronzo la nascita della coalizione del bronzo una confederazione di navi in cui ogni capitano è il sovrano di uno stato contenuto all'interno del vascello stesso ogni nave è uno stato a sé stante e ogni capitano è un leader un capo di stato è il suo leader mentre la città galleggiante della secca è rimasta un territorio un territorio neutrale sebbene in realtà sia da sempre oggetto di contesa tra diverse fazioni nel corso del primo secolo della collezione quindi i decenni dopo la sua fondazione i decenni dopo la creazione della secca le grandi leggende si sono unite si sono unite mettendo grandi leggende del mare nel senso persone importanti leggendari capitani si sono messi insieme per creare delle vere e proprie flotte e piantare le loro bandiere sulle poche isole che puntellavano il mar dei naufragi questi capitani hanno facevano governavano i loro vascelle i loro surme in maniere diverse ma ognuno di loro era di fatto l'equivalente di un re ogni capitano era l'equivalente di un re si vedeva come un re che cos'è fifth domes governando quindi peraltro re che governavano altre flotte quindi dei vassalli degli stati vassalli dei feudi immaginatevi tipo la flotta nefasta quindi c'è un capitano molto importante che governa dieci navi la nave principale l'ammiraglia è il regno diciamo è la forma il governo centrale le altre navi formano appunto la popolazione e i feudi in una società feudale in cui ogni capitano sotto l'ammiraglia era comunque indipendente ma a tempo stesso dipendente dall'ammiraglia non so se mi sono spiegato ma immaginate appunto sistema feudale anziché i castelli con il re al posto del re una nave ammiraglia al posto dei castelli e dei nobili una serie di capitani e navi combattendo l'uno con l'altro per cercare di controllare quindi avevano fondato queste flotte che combattevano l'una con l'altra per cercare di governare la coalizione alcuni erano chiaro fin dall'inizio che desiderassero solamente essere soprani di tutti gli altri ma la maggior parte dei pirati rigettavano le leggi del vecchio mondo in quanto ormai non avevano più valore dato che appunto torreson era stato conquistato l'epoca della pirateria infiammò il mar dei naufragi con il fuoco del cannone e dell'avventura ma tagliagole ma una vita da tagliagole che pronti a rischiare tutto per un tesoro o per un diciamo una vita da scavezzacollo e tagliagole non fin dall'inizio si rivelò un pessimo modo per organizzare una società funzionante sul lungo periodo che funzionasse sul lungo periodo sebbene la popolazione della coalizione di bronzo sia valorizzi prima di tutto la libertà sono anche sono stati comunque coloro che hanno creato comunque degli imperi e dei regni che anziché essere costruiti sulla terra erano costruiti sulle navi e quindi erano sempre costantemente soggetti a tutte quelle macchinazioni che i vari capitani come i regnanti degli stati europei diciamo degli stati europei ma nel senso i regnanti del torreson insomma pur avendo costruito appunto valorizzando la libertà sopra ogni cosa erano stati comunque costruttori di imperi acquatici se vogliamo la legge la legge esiste solo in quanto solo a dichiarare a decidere la legge e le regole è l'ultimo capitano che sarà l'ultimo capitano che rimarrà in piedi e sarà pronto e che sarà pronto a farla rispettare con il coltello diciamo questo vale per ogni nave la collezione di bronzo quindi è stata per gran parte della sua esistenza definita da quelli che erano al di fuori di essa per l'impero del sole erano solo dei pirati incivilizzati il rifiuto perso sì sfigati diciamo merda rifiutati i rifiuti diciamo del potente impero di Ixlan e barbari dal torreson che che si erano i rifiuti appunto dell'impero dell'Ixlan e i rifiuti del torreson che si erano uniti insieme in una missione di caos per la corona e la chiesa di torreson erano eretici che veneravano il denaro e il the deep le profondità il denaro e il il mare diciamo comunque sì è il mare nemici del progresso e della indegni della salvezza offerta dal sole immortale dopo essere sopravvissuti dalla invasione firexiana tuttavia gli abitanti diciamo i pirati della collezione di bronzo hanno chiesto di più dai capitali dai capitani che li governavano la prima la prima fase la prima età della pirateria è forse finita ma l'era ma l'era che è seguita ad essa non promette una maggior pace mentre la collezione si raggiunge il suo sì diciamo sì mentre la collezione si avvia verso il suo nuovo secolo si trova ad affrontare una domanda essenziale quali sono i limiti della libertà e come questa collezione se desidera veramente rimanere unita dovrebbe organizzarsi per assicurarsi che tutti coloro che vestano i suoi colori diciamo che siano sotto la sua tutela possano mantenere la libertà che dichiarano di avere e possano godersi la libertà che tanto desiderano quindi come conciliare legge e libertà di fatto bene personale e bene comune una nazione nata dal nulla la secca per molto tempo territorio neutrale è stata decisiva durante l'invasione firexiana in quanto è stata utilizzata è riuscita a dominare e a imporre la sua autorità come cuore della coalizione di bronzo formata dalla instricabile collisione di due navi la flagello e gli occhi morti dead ice e poi costruita per un intero per un intero secolo anche se qui le date cioè in teoria la flagello era capitanata da cosa da beckett quindi beckett ha un secolo di vita si è trasformata quindi in una fluma una città dai molti livelli galleggiante all'orizzonte se si guarda verso l'orizzonte se la si vede dalle coste di Ixham verso l'orizzonte la secca somiglia a un sogno febbrile una città e una flotta che è stata unita fusa e costruita insieme piena abitata dalle flotte delle navi attaccate in porto che scambiano provviste e beni da vicino invece la secca appare come una titanica e impressionante costruzione che nel corso di un secolo è cresciuta sotto la leadership di diversi sindaci e molte diverse teorie di organizzazione attraverso la sua storia Tommaso buonasera 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 necro buonasera anzi necro sera aia necro sera chiedo scusa stiamo leggendo e traducendo la guida ad Ixalan si necro combina oggi eh sì stiamo leggendo i pirati della collezione di bronzo leggendo appunto traducendo in diretta la guida per Prince Walker a Lost Cavern of Ixalan siamo arrivati ai pirati della collezione di bronzo stavamo vedendo un po' la secca la città fluttuante galleggiante come si comporta e cosa è successo perché è diventata il centro del potere dei pirati dopo l'invasione firexiana durante tutta la sua storia la secca è rimasta una costante della coalizione di bronzo l'unica costante della coalizione di bronzo se vogliamo è sempre stata il più grande porto dal quale sbarcare è sopravvissuta a pestilenze carestie assalti dalle creature del mare e persino tiranni che volevano governarla col pugno di ferro durante l'era post invasione quindi nei tempi moderni oggi nel presente la secca si trova ad affrontare minacce mai conosciute in precedenza che vengono dall'interno e dall'esterno dall'esterno no dall'esterno così come una opportunità che fino ad allora non si era mai presentata sto cercando di capire ah ok mentre un tempo era la sua economia diciamo era basata su favori promesse debiti e monete rubate denaro rubato oggigiorno invece sta cercando di costruire una vera e propria economia marittima basata soprattutto sul sul commercio del Cosmium e del debito sui debiti e sul commercio del Cosmium non so perché deb vabbè sta facendo debito come ha un pil ha un pil immagino che ogni nave abbia il proprio pil e la secca ha il suo pil entrambo in discorsi economici nei quali non sono sicuro di volermi addentrare perché so di non avere le capacità per parlarne la secca non è mai stata costruita per essere una città tutta piuttosto si è trasformata in una città appunto allo allo stesso tempo la coalizione di bronzo non è mai stata pensata per essere uno stato o un regno ma la leadership della secca e un po' di alleati chiave tra le flotte della coalizione appunto stanno lavorando per renderla la cosa più vicina appunto a uno stato o a un regno indipendente l'ammiraglia Beckett Brass che un tempo era la leader della flotta flottom la flotta non mi ricordo come si chiama secondo non era profonda forse del profondo ok fatemi vedere la traduzione ufficiale ah la flotta abissale certo infatti la flotta abissale la miraglia Beckett Brass che un tempo era la leader della flotta abissale siede oggi sulla diciamo è oggi la leader della secca della secca costruendo il diciamo prendo il sentiero prendo la strada per la trasformazione della coalizione di bronzo da associazione priva di confini a vero e proprio stato nazione quindi Beckett sta lavorando effettivamente dal centro diciamo di potere della secca per costruire uno stato un nuovo stato di fatto per i pirati che effettivamente non ne hanno mai avuto non ne hanno avuto uno da un secolo a questa parte e vediamo quindi a questo punto no sto a fare un casino vediamo cosa cosa è successo durante l'invasione firexiana durante l'invasione firexiana la secca si è riempita di rifugiati di Ixalan e Torreson sia dell'Ixalan che del Torreson e dunque il sogno di libertà senza confini della coalizione è sembrato svanire i rifugiati si sono hanno raggiunto la secca con navi a malapena in grado di attraversare l'oceano e sono arrivati rifugiati di tutti i tipi affamati spaventati e soprattutto molti malati implorarono protezione che in protezione dall'invasione firexiana e le flotte della collezione inizialmente hanno risposto a questo a questa invasione effettiva abbandonando la secca in quanto tutto sommato era un loro diritto nessuno li obbligava a rimanere ma si sono presto resi conto di quanto questa fosse una pessima quanto di questa sia stata una pessima scelta senza le vaste senza le enormi senza le rifornimenti insomma le enormi quantità di rifornimenti dei magazzini della secca con un collasso completo di ogni forma di commercio oceanico e con i firexiani che attaccavano sia l'Ixalan che stavano conquistando sia l'Ixalan che il Torreson una nave libera si sarebbe trovata a rimanere libera per molto poco tempo affamati e con scarse e con scarse provviste le affamate e con scarse provviste le le flotte hanno quindi fatto ritorno alla secca trovandola però assediata assediata e in pieno in pieno combattimento tra un tra i difensori della coalizione di bronzo e i i Turned in che senso i Turned non sto capendo in che senso intendono i Turned non so se intendono le persone che si sono rivoltate quindi una rivolta da parte dei beh immaginiamoci che ci sia stata una rivolta da parte dei rifugiati o forse proprio si parla dei Turned intesi come coloro che sono andati via e sono poi tornati o ancora io non capisco se si tratti forse si parla dei firexiani Turned in quel senso trasformati vabbè in ogni caso c'era un assedio la trovarono sotto assedio da parte di chi non è chiaro brass la fondatrice della coalizione di bronzo è sopravvissuta all'invasione firexiana la sua flotta la flotta abissale tuttavia il suo originale ideale sogno ideale di come dovesse essere la coalizione di bronzo non hanno fatto altrettanto non sono sopravvissuti outset cioè all'inizio immagino si all'inizio dell'invasione l'ammiraglia brass e la maggior parte della sua flotta erano impegnati in una grande spedizione per cercare alla ricerca di continenti continenti che si diceva potessero esistere nel sud del del mondo di xalan a sud dell'xalan che parentesi sarebbe fighissimo in un terzo ritorno su xalan se il terzo ritorno su xalan segnasse tipo si ispirasse alla alle scoperte geografiche del novecento quindi all'inizio del novecento al tentativo di raggiungere il polo nord il polo sud sarebbe fighissimo con le tecnologie più avanzate proprio grazie ai pirati magari sarebbe veramente figo un futuro ritorno a xalan sarebbe veramente una figata se fosse appunto si basasse sulle sull'ultima epoca delle grandi esplorazioni lasciando stare ancora alta torreson addirittura ti direi di sì guarda ti direi che sarei disposto a sacrificare torreson alta torreson o comunque in generale torreson per quest'idea poi potrebbe anche essere un po' e un po' nel senso non per forza anziché trovarci una civiltà così come hanno fatto nel nucleo potrebbero appunto trovarci qualcos'altro e potrebbe esserci anche un rapporto con torreson per l'appunto cioè qualcosa di anziché essere ixalan che scende nel sottosuolo è il torreson che va ad esplorare il sud del mondo torreson sia alta inteso come alta torreson ma anche come la coalizione di bronzo certo col mico tiranno in giro la vedo dura però penso che se torneremo mai su ixalan penso che troveremo il mico tiranno che ha conquistato tutto secondo me però però ecco sarebbe figo anziché avere il punto di vista di Watley avere più punti di vista no infatti la vedo ma guarda Aklazoz veramente rispetto al mico tiranno a me preoccupa di più il mico tiranno di Aklazoz perché Aklazoz può fare il figo quanto gli pare l'era della morte portiamo la morte a tutti facciamo casino però dall'altra parte c'è il mico tiranno Aklazoz è stato sconfitto già una volta gli hanno strappato un occhio certo ci sono voluti degli dei però gli hanno strappato un occhio e l'hanno chiuso dentro un un tempio per diverso tempo quindi tutto sommato sì non è che stia tranquillo Torrezon c'è sempre una guerra civile religiosa in atto anche lì si ispira tantissimo è bellissimo come sia una guerra religiosa e quindi subito dopo le esplorazioni geografiche 1400 1500 scoperta dell'america riforma protestante guerre di religione in tutta Europa nel 1500 dio quanto amo questo piano quanto amo il lavoro che hanno fatto e quindi c'è sì c'è un casino in Torrezon però col mico tiranno io ho più paura del mico tiranno stavolta farò le cose più lentamente di nascosto è vero è vero molto lungo definitivo non hai tutti i torti non hai tutti i torti però non c'è diciamo Torre Akrazoz lo vedo come sì vabbè farà 10 100 20 miliardi di 20 miliardi magari 7 miliardi di morti però 7 miliardi di morti è una cosa così è una roba che si fa è un capriccio suo capito Akrazoz fa i capricci ammazza la gente il micodiranno pure che ci mette tempo comunque sì vabbè cosa saranno 400.000 persone ammazzate d'Akrazoz contro un intero mondo completato praticamente la sua nemesi chi era aspetta il micodiranno non potrà mai conquistare Ixlan il la sua nemesi è Brage in realtà Brage è la nemesi del esattamente Brage 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 è la nemesi del mi ti hanno ragione assolutamente no 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 assolutamente finché esisterà lui Ixlan e Torres non sono al sicuro però no veramente magari proprio lo scontro che si trasferisce i riprofughi appunto cioè il Torreson viene conquistato dai fondamentalisti di e i vampiri sono costretti a rifugiarsi altrove oppure devono esplorare appunto per cercare nuove terre un po' come è successo ai pirati dopo che i vampiri hanno conquistato Torreson però anziché darsi alla pirateria trovano una nuova terra appunto il polo nord il polo sud da poter sfruttare per cercare di reclamare il loro il loro il possesso della loro terra da Akrazoz e nel frattempo Ixalan che decide finalmente di attaccare Cointli IV che ispirato dall'ozio zakama funghizzato e sono cazzi amari tra l'altro e proprio il polo nord e il polo sud si riveleranno l'arma definitiva per ammazzare sia Akrazoz che il micotiranno in questi luoghi ai poli del mondo si trovano delle antiche armi che porteranno alla morte del micotiranno e alla salvezza del micotiranno di Akrazoz l'impero adesso sarà in mezzo si è presupposto di una guerra civile si infatti si è più probabile quello se non una guerra civile quantomeno un colpo di sicuramente un colpo di stato forse riusciranno ad evitare la guerra civile e faranno poche vittime ma mi aspetto un colpo di stato assolutamente Intli IV se dura diventerà ancor più fantoccio se lo tengono se lo tengono in vita più probabilmente se giochiamo pure Intli IV e mettereanno cosetta eh no non è mai stato buono oddio dipende in realtà diciamo un imperatore adolescente con un reggente in generale più che altro il fatto che c'è il reggente però imperatori non adolescenti ma comunque sui 18 19 anni ce ne sono stati è interessante cioè Carlo V quanto aveva 18 anni quando è diventato imperatore e parliamo appunto di questo periodo qui poi certo uno può dire beh non è che è stato proprio un bel periodo visto che dal punto di vista dei maghi e degli aztechi per dire degli incas non è stato bello il periodo di Carlo V che ha invaso le americhe però tra l'altro neanche lui non l'ha cominciata lui tecnicamente non hanno cominciato i genitori però sì sì Carlo V sì e poi comunque è una società leggermente più in là e poi è Torreson di fatto Carlo V non con non Akraz sì Akraz certo proprio Akraz Akraz è il vero imperatore intendevo Ixalan non è di Ixalan non è appunto una società come quella di Ixalan è molto differente però comunque sì in generale imperatori non si sono non sono quasi mai stati soprattutto reggenti al posto di imperatori raramente hanno fatto qualcosa di buono nella storia dell'umanità e comunque non mi sembra che come si chiama Cosetto lì lo zio di Inti sia molto propenso al buon governo anzi a Raxon Hill ci avrà avuto da fare ci avrà avuto qualche occhio da strappare non lo so no in effetti si ci stava poteva starci però si vede che quel giorno è rosso è mano rosso fra le sue cose capito le sue cose nel senso quei momenti in cui ma oggi non mi va c'è Akrazos che sta distruggendo tutti ma a me che me frega io voglio giocare voglio stare tutto il giorno a giocare a che ne so a palla con gli amici miei con quello blu che non mi ricordo manco i nomi perché è così sono volubili queste divinità rosse comunque torniamo a noi finita questa parentesi pur interessante torniamo a noi dicevamo quindi appunto l'ammiraglia l'ammiraglia Brass stava viaggiando in questa spedizione per cercare i così misteriosi continenti del sud ma è tornata indietro quando ha visto i rami del Rian Breaker che spuntavano dal cielo questo viaggio è risultato in una lunga campagna di combattimenti nella giungla e con truppe contro truppe firexiane e mostri mostri marini firexianizzati chiaramente nei momenti in cui la 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 flotta abissale doveva rimettere piede a terra per magari prendere un po' di acqua potabile e riprendere un po' di provviste doveva affrontare i firexiani e anche in mezzo all'oceano c'erano comunque i mostri marini firexiani brass e le sue navi sono tornate andiamo a sconfiggere la cazzo questo questo sasso mi sta antipatico sasso brutto esattamente è così è Axol Hill è così e se provi a dirgli di no ti trasforma nel sasso ti strappa un occhio dalla testa sasso brutto quindi brass e le sue navi sono tornati quindi a high and dry alla secca e si sono ripresi la città liberando la sua popolazione e scacciando gli invasori firexiani quindi l'assedio di cui parlavo prima era stato fatto dai turnhead nel senso da quelli che erano stati trasformati in firexiani la sua difesa della città è stata lodata come un'eroica fit come un'impresa eroica e ha preso il comando della secca in quanto in qualità di unica leader della città il la luna di miele di brass è durata però molto poco no scusate l'esatto opposto è è sopravvissuto anche oltre il periodo migliore diciamo la luna di miele appunto di brass il periodo di governo diciamo il periodo d'oro di brass è durato anche dopo la fine dell'invasione ma mentre torreson e l'impero del sole ah ma anche ma come torreson e l'impero del sole molto presto la necessità e il desiderio di cambiamento divenne soperchiante grazie fortunatamente per la popolazione della secca il concetto di libertà di brass si era evoluto allo stesso modo quindi anche brass aveva voglia di cambiamento la libertà realizzò il grande ammiraglio la grande ammiraglia era garantita solo se la tua nave poteva effettivamente spiegare le vele e salpare per mantenersi quindi all'interno per mantenersi in mare un vascello aveva bisogno di tutte di tutto il necessario una nave cominciava sempre come una foresta e coloro che costruivano le navi raramente le salpavano su di kit salpavano su di esse ma che cazzo c'entra raving and pillaging quindi attraziare e distruggere ah ok sta dicendo ok intendeva dire che intendeva dire che se tu stai in una foresta e costruisci delle navi di solito poi non salpi sulle navi quindi ok stanziarsi stanziare stanziamento sedentarietà razziare e depredare rendevano le persone parassiti dichiaro di chiaro brass per nulla migliore di quei firexiani che avevano corrotto e trasformato così tante persone libere della coalizione di bronzo quando la la folla infuriata si riadunò fuori dalla sua della sua nave ammiraglia al porto della secca non fungì invece uscì allo scoperto camminando sul sul ponte della nave spiegò le sue le sue braccia e dichiarò la finita conclusasi l'era della pirateria la coalizione di bronzo sarebbe diventata una nazione il cui scopo primario sarebbe stato quello di assicurarsi assicurare suoi membri ciò che brass vedeva come vera libertà la libertà dalla paura freedom from fear che è un concetto un po' particolare brass lasciamelo dire la coalizione di bronzo su x-lan dopo l'invasione la scoperta del cosimus del cosimus su x-lan ha fatto partire una vera e propria corsa per estrarre il minerale scatenando un boom industriale così con una nuova epoca di pirateria in alto mare la coalizione di bronzo cercò di mantenersi in equilibrio su questi due diciamo di mettere il piede in tutte e due queste scarpe utilizzando cominciando delle operazioni di di minerarie di cosmium stabilendo delle minerarie di cosmium sull' x-lan e assicurandosi di essere l'unica assicurandosi di essere l'unica garante degli dei minatori insomma assicurandosi di essere l'unica che poteva fare estrarre il cosmium il cosmium e e guadagnandosi quindi una una scusate ah il suo ok sta cercando di mantenere il piede in due scarte appunto e il suo scopo è quello di essere l'unico garante e l'unico diciamo di creare un monopolio sulle miniere e guadagnarsi il riconoscimento di uno stato in mezzo all'oceano da parte dell'impero del sole e di torreson l'impero del sole e la collezione di bronzo sono sempre stati avversari dal loro iniziale contatto un secolo fa fino alla fine della prima era della pirateria e fino ad oggi al momento alla corsa al cosium la leadership dell'impero del sole ha visto la collezione del bronzo come un gruppo di invasori indesiderati sotto il regno dell'imperatore apaztec intli terzo secondo scusate quindi il nonno di apaztec quarto la popolazione di rifugiati pre coalizione appunto che ancora non si chiamava coalizione che era fuggita da dorison non trovò alcun non fu la benvenuta nell'impero del sole furono scacciati dai loro accampamenti dai soldati imperiali e intimati a non tornare mai più e di non tentare mai più di provare ad accamparsi sulle coste dell'Ixalan la la politica di Pachatupa è sempre stata quindi di scacciare quella di scacciare le coalizioni delle navi della coalizione di bronzo ma spesso alcuni dei mercanti di Azzokan ignorarono questo embargo prima della invasione firexiana non era comune trovare non era strano trovare navi della coalizione che che facevano su e giuve verso la costa nei pressi appunto di Azzokan e che gettavano l'ancora appunto nei porti di Azzokan mercati mercati neri e grigi in tutto lo stato di Azzokan incanalavano effettivamente portavano dei beni esotici fino al cuore dell'impero dove venivano scambiati per artefatti imperiali e oro venduti da mercanti imperiali che con pochi scrupoli questo business fatto di commercio pirateria e piccolo appunto commercio tra mercanti scambi tra mercanti beneficiava tutti quanti specialmente coloro in cima all'impero l'elite dell'impero finché questi avessero mantenuto appunto avessero chiuso un occhio l'invasione però distrusse questo ordine perché la devastazione di Azzokan e la depopolazione della costa depopolamento della costa portarono appunto a un crollo dell'economia diciamo nell'ultimo anno dalla sua conclusione gli imperiali hanno scoperto che la collezione di bronzo si è mossa per costruire nuove città di frontiera stabilendo porti di scambio e aprendo grandi miniere di cosmium questa costruzione questa costruzione questa crescita sulla terra è la base per di la base di molti degli sforzi della governatrice brass per legittimare la coalizione con uno stato ossia conquistandosi il il cosmium e facendo i soldi col cosmium di fatto e diffondendolo e diffondendo i suoi uomini in tutta la costa di Ixalan a mantenere l'ordine ci sono i blue coats le giacche blu diciamo che un tempo erano la flotta all'occhio seco e che erano i riscendenti delle 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 surme delle flotte militari che un tempo erano di torreson la flotta occhio 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 tetro occhio morto come si chiamavano occhio cieco scusate non occhio morto occhio cieco si vedevano come come si vedono ancora adesso come una marina militare nazionale agli ordini dell'ammiraglio brass sebbene scettici molto presto l'ho realizzato sebbene all'inizio scettici molti prospectors quindi diciamo cercatori diciamo di Cosmium hanno presto realizzato il valore di avere un deed di possedere una documentazione diciamo garantito un atto di proprietà diciamo garantito dalla collezione di bronzo un contratto ufficiale firmato e stampato dagli ufficiali della secca significa che le giacche blu non significa evitare che le giacche blu arrivino per distruggere gli accampamenti confiscare oggetti e fare insomma un po' di casino insomma serve tipo a avere dei contratti con la collezione di bronzo serve per evitare che la collezione di bronzo venga a spaccarti la casa bruciarti la casa è tipo una mafia invece in questo quindi sono protetti dalla collezione stessa anche da coloro sono protetti dalla collezione esatto la mafia di bronzo a capella sarebbero fieri in questo modo quindi questi proprietari diciamo di miniere possono garantirsi protezione per se stessi e dalla collezione di bronzo ma anche dalle altre forze in gioco se dovesse esserci qualcuno un problema la collezione di bronzo è lì pronta a difenderli da un attacco oddio sunray raggio di sole la baglia raggio di sole è il più importante porto il principale porto della collezione di bronzo su il il più grande centro abitato della collezione appunto di quelli ovviamente costruiti sulla terra ferma controllata dalla capitana Ripley Vance la baglia raggio di sole non è mai tranquilla ed è sempre pericolosa ma è anche piena di oro Cosmium e ogni tipo di beni commerciali sì commerciali di beni commerciali illeciti e leciti leciti e un po' meno leciti data la sua preziosità appunto la sua ricchezza l'abbaglia occhio sì occhio dai l'abbaglia raggio di sole è pattugliata attentamente pesantemente dalle dalle giacche blu che sono Garrison non anche il presidiato presidiate presidi presidiata quindi poi dai combattenti della coalizione e le sue acque sono protette sia dalle navi private della capitana Vance e dalla marina appunto della coalizione quindi dai blue coats dai giacche blu ciò nonostante la baia raggio di sole è una città di frontiera un luogo dove tutti i tipi di persone arrivano su diventata diciamo l'equivalente di tortuga però diciamo tortuga era più la secca è una tortuga un po' più controllata diciamo poi c'è downtown che è il più grande progetto sviluppato dalla collezione di bronzo su xlan una miniera permanente si trovata centinaia di metri sottoterra cos'è un cenote vabbè una specie di di grotta vabbè e quindi appunto costruita questa miniera è costruita intorno alla bocca di un'antica grotta asciutta a grotta acquatica diciamo ormai asciutta che scende per miglia e miglia in profondità nel sottosuolo di xlan downtown è composta di grandi da grandi silos da refining ah da raffinerie impianti impianti di raffineria da aree in cui si processa il minerale appunto il cosnium ed è circondata con è costantemente attraversata da carrelli di miniera da miniera che portano avanti e indietro appunto minerali e minatori nel in tutta downtown e diciamo downtown è la città e il costruito vicino alle miniere e poi è puntellata dalle miniere e da downtown alla miniere c'è un costante via vai di su giù su giù su giù porta porta i minatori porta i minerali porta i minatori porta i minerali eccetera eccetera downtown è illuminata da grandissime massicce lampade che sono connesse alla superficie da ascensori idraulici da switchback schiale a chioccio la sono switchback tracciato attornanti no non sono chiocciola sono faccio vedere direttamente la foto perché non le so descrivere onestamente non sono chiocciola ecco questo tipo di scale qui tipo le scale dei palazzi no quando entrate nei condomini c'è il pianerottolo 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 poi scendete e c'è c'è il momento in cui ti affaccia la finestra poi c'è l'altra scala poi c'è il pianerottolo 2 poi l'altra scala avete capito mi piace si vede che sono un ottimo un ottimo autore sono veramente bravo a descrivere le cose sono veramente bravo e complessi acquedotti la popolazione di downtown di solito indossa elmetti e indumenti pesanti adatti a una vita in mezzo alle rocce e spesso e volentieri portano con sé sempre delle sacche o delle delle cinte alle quali sono attaccate nelle quali sono infilati gli oggetti che usano tutti i giorni nei loro lavori piccoli o piuttosto che pippe che sì pippe martelli o altre cose l'eliminazione è vita in downtown e nessuno viaggia senza una fonte di luce una fonte di luce o qualcosa che mantenga appunto carburante e molto e molti rifornimenti diciamo in maniera tale cioè insomma cercano sempre di avere il tendono ad avere delle mani sempre libere per lavorare e a infilare le loro luci e portarsi dietro altri ricambi se la luce dovesse spegnersi con negli elmetti magari oddio che fatica ma è vero che abbiamo fatto un'ora e dodici però non lo so alta torreson ce la facciamo o la facciamo la settimana prossima alta torreson e magari adesso facciamo un chiacchierando finale ma forse vale la pena continuare sono le 22 e 12 in realtà non è tanto vabbè dai continuiamo continuiamo andiamo avanti con i vampirli potrei farlo con alta torreson non so perché mi è passata per la testa la canzone di Bob l'abbia giusta tutta alta torreson la legione del vespro è la compagnia della baglia della regina the virginia company la legione del vespro è la storica armata militare di alta torreson una monarchia ecclesiastica di vampiri che è situata nel continente di torreson 800 anni fa la legione fondata 800 anni fa la legione persiste come una e mantiene il suo il suo orgoglio diciamo di organizzazione di professioni di conquistatori professionisti esploratori navigatori logisti e amministratori di alta torreson del progetto imperiale di alta torreson boyard che vuol dire boyard sostenuta da una massiccia da un gran numero di aspiranti umani la moderna legione del vespro è la primaria forza spedizioniera di alta torreson capace di manovrare grandi operazioni attraverso l'oceano e dirigendo i suoi profitti nelle casse nelle sue casse a torreson sebbene la prima spedizione della legione del vespro verso Ixalan sia stata accompagnata da sia stata diciamo ricacciata a causa di una combinazione di resistenza indigena e combattimenti interni la legione stessa è sopravvissuta tormentata diciamo dal suo terribile fallimento e dopo la distruzione dopo aver difeso con successo alta torreson dalla invasione firexiana rinvigorita dall'invasione firexiana la legione ha chiesto alla corona di ripartire per Ixalan alta torreson deve essere ricostruita e coloro benedetti da Aklazoz devono nutrirsi su Ixalan afferma la legione possono reclamare i vasti materiali e le ricchezze sanguigne di quel continente e portarle ad alta torreson allo stesso modo molti dei fedeli legionari cercano di tornare verso Ixalan percependo un qualcosa nell'ombra nelle loro anime che ricorda loro che Agrazoz il loro dio progenitore si trova ancora là sotto la terra di Ixalan in attesa dei suoi figli per essere trovato il crepuscolo di torreson antichi testi affermano che la storia di alta torreson comincia circa mille anni fa almeno mille anni fa sebbene le storie che parlano della legione del vespro comincino a apparire 800 anni fa all'epoca comunque il continente di torreson era popolato da diversi da diversi regni e città stato indipendenti stava godendosi un rinascimento di progresso scientifico dove la ricchezza dove fioriva l'arte e il commercio era alle stelle diciamo e l'economia fioriva alta torreson all'epoca era un piccolo ma prospero stato una città stato piccola ma prospera persa nelle montagne nella parte nord-est del continente occupata occupata con delle avendo a che fare spesso con delle guerre guidate dai mercenari tutti questi stati non erano mai riusciti a esistere in una condizione di pace che è un po' appunto l'Europa prima del 45 l'Europa occidentale poi i testi contemporanei parlano di questa era come di un'era dell'oro dell'età dell'oro per il continente dalle meravigliose brillanti coste dalla meravigliosa brillante scintillante costa libera nell'ovest fino alle rive del fiume d'oro nell'est un grande fiume che divide in due il continente torreson era prospera e le sue persone la sua popolazione è felice quest'era però si concluse in una apocalittica guerra e uno spargimento di sangue poco più di quattro secoli fa un vasto una vasta armata di non morti ha marciato fuori da alta torreson attraversando il de oro sotto uno stendardo pallido questa armata era una spaventosa riunione diciamo una spaventosa unione di legioni e compagnie mercenarie un tempo divise tra tre fratelli in guerra adesso erano uniti sotto un singolo leader l'ordine di Sant'Erenda la rosa di torreson si chiamarono la legione del vespro abituati alla guerra questi spaventosi cavalieri conquistarono si diedero diedero cominciare una lunga una veloce in realtà lunga ma veloce campagna di conquista conquistando gran parte delle delle pianure a est di torreson prima che gli stati dell'est dell'ovest riuscissero ad arrestarne l'avanzata sebbene l'ovest sia sopravvissuto per un intero secolo dopo questo primo assalto la legione si rivelò infine inesorabile essendo stata avendo avuto a che fare avendo combattuto la sua una vera e propria guerra civile ed essendo i suoi quindi essendo reduci i suoi guerrieri da una guerra civile e beneditti dal dono del vampirismo alla fine il continente cadde coloro che non fuggirono attraverso l'oceano furono o uccisi oppure costretti a inchinarsi e giurare fedeltà verso la corona di Alta torreson le guerre apostasine apostatine 803 before down before dawn quindi prima della dell'alba e l'alba e l'alba presente mi pare no il tempo presente è xlan l'alba è il primo blocco xlan dopo se lo dicono voglio cercare la timeline allora eccola qua avasenna iri godsend agenza of artifice no ancora voglia allora svogdir oh 3760 800 circa 800 anni fa 800 sì 803 anni fa perché oggi siamo nel 63 siamo nel 4500 e quindi 4760 quanto so bravo a fare i conti prima che la ah no aspettate cambio lo sfondo però quindi la guerra le guerre apostasine o apostatine non ho mai capito che si dica apostasine apostasile prima della unione della legione epriaca e la legione del vespro unita attraversassi il fiume de oro e conquistasse il partito della conquista del continente alta torreson aveva affrontato centinaia di anni di drammatici colpi di stato guerre civili e guerre di religione nell'803 prima dell'alba quindi appunto nel 3760 AR alta torreson era una solitaria città stato profondamente religiosa situata nelle montagne est del continente di torreson che ancora non era il reame dei vampiri per secoli alta torreson era era stato il cuore divino del continente mandando missionari in tutto il continente persino verso lande ancor più lontane di torreson a un certo punto nella storia antica la fede e gli interessi territoriali isolarono la capitale religiosa dal resto del continente alta torreson e la sua popolazione erano contenti di interessarsi solo agli affari del reame a est del Deoro la chiesa di torreson la chiesa di alta torreson inviò ministri missionari ma secondo fonti contemporane la monarchia di alta torreson si isolò lasciando il resto del continente a vivere la sua era dell'età dell'oro tuttavia interessarsi semplicemente agli stati agli affari del proprio continente non significava che del proprio stato non significava che la popolazione di alta torreson fosse in pace in contrasto con l'età dell'oro del resto del continente circa 800 anni fa alta torreson entrò in profonda crisi era una nazione in profonda crisi il suo monarca venerabile era appena morto senza lasciare un successore quindi carlo magno l'equivalente di e a causa delle leggi di successione della corona ognuno dei figli dei tre figli del monarca ereditò titoli e terre dividendo il regno in tre parti la più vecchia dei figli del re quindi la principessa diciamo la principessa primogenita ereditò il territorio di alta torreson gelosi dell'eredità della loro sorella i monarchi i figli scusate secondo genito e terzo genito del re due fratelli che avevano che avevano servito come nel nel concilio del monarca e avevano ereditato contee educati quindi avevano il loro bel numero di territori ma evidentemente avevano bisogno per guidare il loro stato comunque volevano le risorse o comunque l'importanza religiosa di alta torreson chiamarono a raccolta i loro vessilli contro il volore della chiesa questi fratelli imposero imposero non è corretto ordinarono alla loro sorella di dividere la sua eredità tra loro due quindi di consegnare loro la sua eredità e la rifiutò e alta torreson e su alta torreson esplose la guerra civile 3760 AR palesemente oltretutto questo mi pare che fosse scritto solo nella guida originale a Ixalan la figlia del re alta torreson appunto aveva la figlia del re aveva ereditato alta torreson che era un era un luogo più vasto un territorio più vasto questa guerra non fu non ebbe il solo la sua conseguenza di spezzare la nazione ma avrebbe frammentato anche la chiesa ben felice di starse nel di fuori dei profani affari dei lordi dei nobili guerrieri prima della guerra civile la chiesa era la riserva economica e spirituale di alta torreson quando i fratelli cercarono di usurpare la loro sorella tuttavia la chiesa fu obbligata ad agire velocemente gran parte della leadership nella chiesa dichiarò i fratelli come eretici apostati che si erano apostasi forse che erano che erano che avevano che erano avevano si erano sviati diciamo avevano sviato il piano divino per ottenere erano andati contro il piano divino per ottenere la gloria quindi peccatori di orgoglio i fratelli allo stesso tempo grazie ai predicatori e altri elementi più radicali della chiesa istituzionale dichiarano la loro sorella e i leader della chiesa di torrezon come a loro volta eretici che si erano rivoltati dal spirito missionario della fede la chiesa e la corona erano sclerotici calcificati istituzioni corrotte dicevano i fratelli era quindi loro dovere schiacciare i cardinali e i vescovi fondere la la corona della regina e la mitra dorata del pontefice e darle e dare ricavato al popolo in trionfo si dichiararono i principi apostasini e la guerra civile cominciò praticamente è Martino Lutero al contrario in questo caso a denunciare la denunciare la guerra civile la guerra a denunciare il in realtà è anche al contrario ma è Martino Lutero 2.0 mancano solo le cose le cristo come cazzo si chiamano quelle che ha attaccato alla porta della chiesa Lutero ce l'avete presente dai dai che lo sapete dai che lo sapete sono convinto le leggi come cazzo si chiamavano Lutero le tesi dio la puttana le tesi di Lutero ecco come cazzo si chiama ci mancava solo quello la guerra civile andò avanti per 250 anni quindi fino al 4060 aspettate 450 anni significa no 4060 sono 300 anni però attenzione attenzione potrebbe esserci un errore nella mia timeline un errore quindi non è il 4060 e 2250 anni anziché 300 50 anni prima il 4010 questo va segnalato quando i figli di tutti e tre i governanti con i figli dei tre governanti che portarono avanti il conflitto i discendenti che portarono avanti il conflitto la brutalità del periodo del periodo di guerra più intensa distrusse la popolazione di Alta Torreson devastando le terre e quasi ogni centimetro di esse dato che ogni dato che la guerra ha cercato di conquistare ogni centimetro di esse nei momenti di nei periodi di maggior tranquillità la guerra era combattuta da piccole bande in in conflitti su piccola scala la nobiltà fu dimezzata i cavalieri e i piccoli lord divennero sempre di meno masse di di peasants di persone di plebei si vennero uccisi si uccisero avvicinando i miserabili battaglie ma nessuno nessuno delle fazioni delle due fazioni delle due fazioni aveva intenzione di ammettere la sconfitta invece una invece si decise di di dopo 250 anni si decise per una mutua cestazione del conflitto regnò quindi una pace piuttosto tesa cominciò a regnare una pace piuttosto tesa questo interregno ah ecco perché 50 anni sarebbe durato 50 anni prima che una nuova guerra riscoppiasse e infatti nel 60 torna elenda 50 anni dopo la battaglia di alta torreson il ritorno di santa elenda e il dono 495 bd before dawn 495 noi siamo nel 60 c'è stata before dawn o no o dawn e dopo nel 63 forse devo controllare questa cosa subito the crisis of fate the queens b company the caverns five dawn era present day mi manca dov'è questa era dell'alba quando è cominciata l'era dell'alba mannaggia non lo sto che non sto che verno c'era scritto però quando iniziava forse un anno fa quindi con l'invasione fiorexiana vabbè poi ci penseremo alla timeline nel 495 before dawn quindi all'incirca nel 60 forse un paio d'anni dopo il 60 4060 circa la guerra civile si scatenò ancora una volta gli armati apostasine sull'offensiva attaccarono e conquistarono e riuscirono a trionfare in una serie di vittorie e presto arrivarono in vista delle guglie di Alta Torreson i rimanenti delle forze combinate i resti delle forze combinate della monarchia e della chiesa si unirono per cercare di schiacciare l'esercito invasore ma proprio quando la sconfitta sembrava ormai prossima un straniero emerse dal nulla avvolto in un vapore nero questo cavaliere caricò verso la guardia d'onore degli principi apostasini uccidendo chiunque si trovasse sul suo cammino i ranghi dell'armata nemica si ruppero e si ritirarono scacciati appunto terrorizzati da questo singolo attacco le forze combinate della chiesa e della corona li inseguirono finendo le forze dei principi apostasini e concludendo la missione la questione la straniera si introdusse come elenda custode del sole immortale che era tornata ad alta torreson dopo secoli di viaggi in ixran elenda era andata alla ricerca di un artefatto chiamato il sole immortale rubato centinaia di anni prima da alta torreson dalla sfinge azor in realtà prima da peron peron il malvasio peron il malvasio e poi da azor il monarca il pontefice della chiesa non credetto subito a questa a questa presentazione quell'evento era una storia antica che era addirittura avvenuto secoli molti secoli prima e lenda confessò al monarca che aveva si era aveva ottenuto la benedizione del vampirismo per continuare la sua ricerca del sole immortale su ixran in ixran ed era ritornata a torreson per donare questo potere alla sua popolazione così che potessero aiutarla nella sua ricerca il pontefice interpretò le rivelazioni di elenda come un atto di sacrificio con la benedizione della chiesa la nobiltà dei lealisti si unì al si abbeverò diciamo del dono di elenda le benedizioni rituali di quelli scelti dal vampirismo divennero noti come rite of redemption riti della redenzione mi pare non mi ricordo come si chiama il rite of redemption in italiano e adesso lo cerchiamo rite of redemption e non ci sta rite of redemption ah ecco che ora ci sta infatti rito della ritenzione la conquista di torreson la prima spedizione da x verso x tal 494 prima dell'alba fino all'era dell'alba ossia ecco qui dicono l'era dell'alba 5 5 anni dopo l'era dell'alba è il tempo presente 5 anni fa c'è stata la prima spedizione verso x lan quindi l'era dell'alba è il momento in cui si è partì due anni prima di x lan quindi l'era dell'alba è avvenuta nell'anno 4.557 possibilmente 58 sì forse più 58 e 57 rafforzati dal dono sovrannaturale del vampirismo di Elenda la corona e la chiesa ottennero velocemente una vittoria sconfissero velocemente i principi apostasini e riunirono Alta Torreson tuttavia sebbene uniti i governatori di Alta Torreson non erano felici all'interno dei loro antichi confini rafforzati diciamo e bolstered rafforzati sostenuti dalla forza vampirica e dall'appetito vampirico cominciano una campagna di conquista in tutto il continente combinando secoli di esperienza sul campo di battaglia con gli doni sovrumani del vampirismo i cavalieri di Alta Torreson divennero la più mortale armata del continente nel corso di 4 secoli le armate di Alta Torreson ingoiano regno dopo regno espandosi fino ben al di là della loro antica terra montagnosa casa montagnosa inviando decine e decine di migliaia di rifugiati verso le libere città della costa nel secolo finale dell'espansione di Alta Torreson i pochi le poche città stati indipendenti caddero sotto le armi della legione del Vespro e i rifugiati fuggirono ancora una volta questa volta attraverso il mare verso Ilsalam Ixalan e altre terre 5 anni fa la legione del Vespro si è attaccato Ixalan è partita verso Ixalan per reclamare il sole immortale così cominciò il dominio di Alta Torreson sul continente di Torreson quindi diciamo che appunto Ixalan due anni prima di Ixalan 1 nel 58 sono partiti i nostri amici vampiri Alta Torreson oggi domina trionfante su un continente conquistato il vampirismo è venerato tra gli umani tra le masse umane di Torreson nel corso di secoli di evangelizzazione diventare un vampiro è diventato sinonimo di accettare il dono ultimo della grazia dalla chiesa un vampiro non è un mostro non morto ma invece una persona a cui è stata garantita il dono della vita eterna abbandonando le spoglie mortali per raggiungere uno stadio superiore più vicino alla divinità l'appetito per il potere per l'oro per le terre per il sangue di Alta Torreson non potrebbe però essere saziato semplicemente dalla popolazione di Torreson perciò la chiesa e la corona guardarono verso il mare verso le terre della leggenda che ancora non erano state esplorate dagli loro agenti presto le loro navi cominciarono a riportare novità e notizie dal distante continente che Elena la prima santa aveva affermato di aver visitato Ixlan la patria di Oratska e del persona immortale il luogo di nascita di Akrazos e la terra dove Santa Elena aveva scoperto il rito della redenzione la prima spedizione della legione del vespero verso Ixlan si sarebbe finita si sarebbe conclusa in un disastro un'umiliazione a Oratska la seconda perdita del sole immortale e il castigo di Elenda pronto ad abbattersi sulla legione una volta che fosse tornata ad Alta Torreson i firexiani su Torreson in Torreson adesso cambiamo immagine mettiamo un'altra bella immagine vampiresca vampiresca mettiamo Vona la antifex Vona spoiler i firexiani a Torreson il continente di Torreson non è stato risparmiato dall'invasione firexiana le ex città libere sono nelle coste del occidentale sulla costa occidentale del Torreson ossia i più grandi centri abitati degli esseri umani essenzialmente il granaio di Alta Torreson il macello anzi Alta Torreson furono i più colpiti dall'invasione sebbene i firexiani non riuscirono a superare il fiume Deoro o raggiungere la cima delle montagne di Alta Torreson il tentativo di liberare queste città ridusse l'occidente a una rovina fumante e lasciò centinaia di decine di migliaia di paladini morti a terra morti mentre centinaia di migliaia di umani uccisi quindi palladini vampiri uccisi allevamenti di umani distrutti città bruciate cattedrali devastate e centinaia di artefatti perduti la ricostruzione fu lenta e dolorosa Alta Torreson soffrì molto dopo l'invasione le famiglie nobili si iniziarono a chiedere alla corona iniziarono a chiedere giornalmente alla corona di restituire e ripagare i loro debiti di guerra gli umani vennero a cercare guida e rassicurazioni un apocalittico fervore animali più agiografici che significa agiografic agiografia ah ok la mia madre dei santi agiografici gli elementi più agiografici quindi più legati ai santi della chiesa che chiesero azione da parte del loro nuovo pontefice Mabrenfein in tutto questo si aggiunse una ondata di di carestia che tagliò che colpissi sia gli umani che i vampiri i vampiri di alta torre sono infatti coloro che non avevano legami con la legione del vespro faticarono a trovare fonti di cibo che potessero rimanere dentro alle ai permessi della chiesa diciamo quello che la chiesa permetteva ossia era difficile trovare elettri eretici ladri o comunque criminali prigionieri di guerra e altri donatori che non fossero né stati toccati dall'olio firexiano o dagli effetti della della helo del nimbo perché da una parte l'olio firexiano anche se effettivamente era morto diciamo inerme era un problema nessuno ci voleva avere a che fare dall'altra parte il nimbo con i vampiri ha sempre avuto un brutto effetto sui vampiri tranne su coso tranne su come si chiama xander però vabbè xander perché xander e i suoi perché erano i maestro erano tutta un'altra razza infelici affamati lord di infelici affamati sciamarlo in tutta torreson le blood fest quindi ora lo trovo ora lo trovo le astinenze dal sangue tipo si chiamano eccola l'astinzione dal sangue notizie di involontarie astensioni dal sangue e rapporti di attacchi nei confronti di violenza da parte dei vampiri iniziarono ad arrivare giornalmente alle corti e alla chiesa e alla corona e sebbene la e sebbene sia la chiesa che la corona iniziarono a ordinare di fermare queste pratiche eretiche i vescovi più radicali e i cardinali chiesero invece una ancora più grande bloodletting ha ancora più maggiore maggiore libertà di bere sangue torreson era riuscito a scacciare gli invasori ma la regina amiralda fatichava a mantenere l'ordine madonna mia la crisi della fede l'arrivo dei firexiani e la conseguente guerra la conseguente guerra convinse molti dei fedeli che la fine del mondo fosse su di loro fosse arrivata insieme questo insieme al regime di austerità del dopo guerra portato avanti nel dopoguerra dalla regina amiralda insieme poi alla grande carestia e i traumi che avevano vissuto durante l'invasione a causa quindi di tutte queste cose insieme gran parte della popolazione di torreson cominciò a ribollire di malcontento antiche istituzioni le antiche istituzioni sembravano incapaci di rispondere alla scala di devastazione che li circondava e coloro che si trovavano fuori da alta torreson cominciarono a guardare alla capitale con gelosia la vecchia capitale era stata risparmiata dalla brutalità dell'invasione e adesso ordinava al resto del reame ciò di cui si potevano imponeva diciamo imponeva al resto del reame delle leggi stringenti su ciò che potevano non potevano bere era necessario un cambiamento un cambiamento e il momento era quello giusto perché un nuovo mondo stava per nascere nella chiesa un'eccitazione scatologica si cominciò a scontrare quindi con una si cominciò a confrontare con una ferma ortodossia i cardinali e i vescovi cominciarono a mormorare le dichiarazioni di eresia l'uno verso l'altro sotto i soffitti a volta delle grandi cattedrali cominciarono a darsi dell'eretico avvicentevolmente sacerdoti vestiti con vestiti dorati nella capitale si cominciarono ad affrontare ad entrare in contese con dei carismatici predicatori di strada vestiti di stracci mentre al di fuori di alta torreson pastori autorizzati della chiesa conducevano i loro greggi verso solitarie scusate buttress si cominciarono a rinforzare la loro la loro predicazione cominciando delle grandi marce di pentenza per quanto riguarda la fede per la chiesa del vespro non c'era nulla di più importante che la direzione della dottrina i primi i primi le prime crepe di uno scisma quindi stavano cominciando a diffondersi il suo antico edificio e l'unica domanda l'unica domanda che rimaneva era comunque la domanda rimaneva quindi sarà in grado l'edificio della chiesa di sopravvivere il cementificarsi o verrà distrutto da questi continui tentativi di cambiamento sebbene non formalmente divise le fazioni che si svilupparono tra i fedeli divennero presto chiare l'ortodossia della chiesa è oggi diretta dal pontefice Mavren Fein il Pio i radicali gli eretici secondo l'ortodossia vedono invece in buona la loro guida questa divisione ha trovato la sua si è fatta strada anche tra i politici profani della chiesa della corona la regina amiralda si è di fatto allineata con il pontefice e con l'ortodossia della chiesa contro la sua guida invece ci sono migliaia di separatisti organizzati sotto vola degli edo l'antifex l'antipontefice l'antipapa la compagnia della regina della di baglia della regina dopo la fine dell'invasione finexiana alta torreson cominciò a sostenere numerose spedizioni verso Ixalan considerate le tensioni tra la chiesa osservando le tensioni della chiesa e per cercare di di mantenere una neutralità in questi sforzi oltre mare alta torreson ordinò alla legione di creare una nuova compagnia commerciale che avrebbe beneficiato che avrebbe lavorato per il bene della popolazione di torreson quindi anziché continuare a mantenere la regina miralda ha detto ok la legione del vespre è palesemente dalla parte di Vona per lo più siccome non possiamo permetterci che ci sia una guerra civile anche tra la legione del vespre creiamo la compagnia della baglia della regina così che sia neutrale e possa portare appunto benefici a torreson la compagnia è un'organizzazione di mercanti commercianti capitani minatori e i loro sostenitori tutti uniti insieme in un singolo progetto commerciale l'estrazione il trasporto il raffinamento e la vendita di beni tesori e risorse da Ixalan la neutralità della compagnia è sulla carta assicurata la sua unica e indipendente struttura di possedimenti cioè di persone che la possiedono ownership di proprietà infatti un pezzo di proprietà sulla compagnia è alla merce di chiunque possa permettersi di prendersene uno o più una parte di di questa compagnia la chiesa la corona e la legione insieme possiedono un significativo numero delle azioni diciamo della compagnia insieme che tutte insieme formano circa la metà della compagnia quindi in realtà non è per niente neutrale la rimanente è invece posseduta nelle mani di diversi interessi interessi nobili banchieri e ricchi mercanti molti dei quali lavorano direttamente per la compagnia o beneficiano da attraverso partnership con la compagnia stessa alla compagnia è stata garantita una un'exclusive chart è stata è stata garantita la proprietà delle vecchie forterezze sulla sulla baia della nella baia della regina nell'XRAN è stata potenziata dalle dai paradini della legione e è diventata presto l'unica l'unica mercante insomma l'unica rifornitrice di Cosmium per il Torrezon ed è diventata rapidamente un potente un potente giocatore nelle nella politica di Torrezon nonostante la sua giovinezza come istituzione per il momento gli tentativi di controllare la compagnia sono non si non sono non sono stati portati avanti nel sangue scusate ragazzi dopo due ore di traduzione diventa difficile il controllo quindi sopra sulla compagnia il tentativo di controllare la compagnia le battaglie per controllare la compagnia sono state prive di spargimenti di sangue per ora quindi ancora sono solo a parole si menano a parole ancora volano solo parole il direttore il direttore della compagnia della baglia della regina è la direttrice infanta Elena De Silos la compagnia il direttore deputato della compagnia cristo della compagnia era Bartolome del presidio il vice direttore scusate era Bartolome del presidio Bartolome del presidio che sappiamo tutti che fino a fatto è poverino è stato ucciso durante la spedizione la spedizione verso il Ixalan Ixalan lo sappiamo sappiamo molto 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 ma mi pare mi pare che fosse lui mi pare di sì non sono super sicuro però mi pare di sì dove stas cerciamo Bartolome trova e modifica trova Bartolome eh sì Bartolome se lo siamo giocato giocato è stato ucciso si è sacrificato è muerto è deceduto il mio accento spagnolo è veramente perfetto e niente qui finisce l'avventura del signor Buonaventura no qui finisce la parte dedicata a Ixalan e Torrezon della guida la parte che si ambienta diciamo nella superficie ma la guida è ben lungi dall'essere conclusa la settimana prossima infatti preparatevi perché prendete le vostre non lo so i vostri elmetti i vostri picconi e le vostre torce e perché si scende in profondità nelle caverne di Ixalan andremo alla scoperta dei Malameth dei Goblin delle profondità e quindi Zaio qua e del Mico Tiranno probabilmente e dei suoi amici e la settimana prossima questo tra due settimane invece arriveremo agli Oltec inizieremo a parlare tra due settimane degli Oltec quindi il quinto popolo e probabilmente durerà ancora durerà ben due settimane io credo che durerà parecchio adesso già che ci sono conto quanto roba è praticamente mezza guida la occupa solamente il nucleo bene ok The Color of the Paradise per una parola in meno considerato che ci abbiamo messo tre tre live per fare neanche metà della guida io credo che altre tre live ci vorranno per finire tutto quanto forse anche quattro poi ci sarà la guida a Mother's Mark of Manor e poi cominceremo l'artbook ci sarà una pausa e poi cominceremo l'artbook di Kaladesh anzi di Ghirapur scusate chissà se scopriremo porca puttana sono 7679 parole solo la parte dedicata agli Oltec al quinto popolo la parte delle caverne invece del mico di ranno dei malamette no questo è poco 2000 parole più o meno un'oretta di lettura perché quello che abbiamo fatto oggi i pirati della collezione di bronzo e i vampiri del torreson sono erano 4700 parole beh allora non sono neanche troppe 7600 se io leggo una media 4700 parole le leggo a settimana prossima settimana appunto leggiamo il mico di ranno i malamette le caverne e iniziamo gli Oltec e forse allora gli Oltec ci mettiamo solo due settimane hai visto mai non sarebbe male due settimane e così poi ci facciamo Marders a carlo menor che tanto non è che ci sia molta non ve lo dico quanto è lunga Marders compreso il titolo penso che sarà più o meno un paragrafo della guida ixalan probabilmente cioè fammi il tempo a leggerne due di guide quello che abbiamo letto oggi equivale secondo me a due guide per a carlo menor dai 5200 parole alle circa sì ci sono quelle 500 parole in più che la rendono effettivamente più lunga di quanto abbiamo fatto oggi significa che forse una live intera ci scappa vabbè ragazzi io rispondai sandra tanto e rispondeva alex alessandro zaxon niente io a questo punto direi come sempre prossimi appuntamenti giovedì ore 16 e 30 inventando l'orwin landa tenebrosa inventiamo 5 personaggi di l'orwin e di landa tenebrosa molto breve molto semplicemente perché poi venerdì ho deciso di tagliare le live e quindi va bene così c'ho altro da fare e vedremo no vedremo nel senso vedremo cazzo e prossima settimana invece torna inventando doppio lunedì e giovedì e mercoledì invece sempre esplorando e niente io direi se ci stanno domande cose insulti idee in chat pronti una breve chiacchierata in chat ci può stare con la chat ci può stare se no aspetto letteralmente il tempo di un'altra pubblicità e poi vado a dormire ma neanche mi sa che vado a dormire e basta ragazzi mi si porta via c'è un sonno e mi si porta via e sono le 11 e 10 e mi sono svegliato alle 10 perché non ho preso il caffè e più ho dovuto combattere tutto il pomeriggio con la casa che ha deciso che voleva andare a fuoco cioè tra due mesi me ne vado da sta casa ma prima di allora ha deciso no tu te ne andrai dopo che ti ha dato fuoco e niente dai ragazzi io direi che vedo la chat molto silenziosa quindi facciamo termine a streaming e basta ci vediamo giovedì alle 16 e 30 allora buona lecronotte a tutti grazie per la compagnia grazie a Tommaso per essere passato grazie per le battute scambiate e niente grazie a tutti quanti fate le sub per ottenere live dedicate all'argomento che preferite e buona necronotte a tutti bye bye a giovedì